Ancora una volta l'ACA finisce nell'occhio del ciclone. L'inchiesta condotta dalla procura del capologo adriatico riguarda gli sversamenti di liquami nel fiume Pescara e poi nel mare e a seguito del crollo dell'asse attrezzato nella notte di Pasqua tra il 5 e il 6 aprile del 2015, crollo che ha determinato la rottura della condotta fognaria di Porta Nuova che si collega al depuratore all'altezza di Via Raiale. Nel registro degli indagati sono stati iscritti due dirigenti dell'azienda acquedottistica. Il direttore Bartolomeo Di Giovanni e il direttore tecnico Lorenzo Livello, considerati responsabili dei 161.000 m3 di reflui scaricati nell'acqua dal sistema degli scolmatori dell'impianto fognario pescarese. Il reato ipotizzato dal procuratore capo Cristina Tedeschini e dal sostituto Andrea Papalia, contenuto negli avvisi di garanzia notificati ai due dirigenti nei mesi scorsi, è quello di inquinamento ambientale. Quando piove il depuratore non ce la fa gestire il flusso dei liquami misti all'acqua e il troppo pieno finisce nel fiume senza trattamento, facendo scattare quasi sempre il divieto di balneazione. I carabinieri forestali nel corso dell'attività di indagine hanno scoperto che quei liquami, che per anni sono finiti e finiscono ancora nel fiume e nel mare, potevano essere stoccati proprio vicino al depuratore nei pressi della città della Musica, dove esistono delle vasche di equalizzazione che però non sono mai entrate in funzione. Perché? È la domanda che i forestali hanno rivolto agli indagati durante gli interrogatori, ricevendo come risposta che la vasca era completamente abbandonata e priva l'impianto di sollevamento. Attualmente ci sono due filoni di indagine, il primo riguarda le responsabilità per il crollo dell'assatrezzato, il secondo invece affronta l'inquinamento del fiume.